Buonasera questa sera ci incontriamo perché c'è un tema che ci sta molto a cuore che riguarda il progetto del nuovo stadio della Roma a Pietralata che andrà domani in assemblea capitolina non sappiamo se ci sarà già domani direttamente il voto dell'assemblea o se richiederà magari un dibattito che durerà qualche seduta in ogni caso noi da tempo abbiamo analizzato tutti i documenti tutti no abbiamo diciamo approfondito vari documenti del 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 proponente dello studio di fattibilità del proponente abbiamo studiato molti documenti rilasciati dai vari uffici e enti della conferenza dei servizi su alcuni temi che ritenevamo molto importanti devo dire che intanto c'è un po' un dibattito pro o contro lo stadio nel nostro gruppo di lavoro di carne in regola ci sono posizioni anche diverse abbiamo trovato comunque un punto d'incontro e di lavoro comune su alcuni temi proprio partendo da quelli che riteniamo siano abbastanza degli elementi oggettivi che sono i pareri degli uffici e come vedremo molte criticità che noi evidenziamo in realtà sono già state evidenziate dagli stessi uffici il primo però vogliamo comunque fare prima una premessa che quella se perché uno stadio solo della Roma nel senso che non sappiamo se poi sia così davvero utile alla città un nuovo stadio probabilmente lo stadio olimpico non è più adeguato alle esigenze della città e nemmeno a un sacco di criticità molte delle quali assai più gravi di quelle di qualsiasi nuovo progetto perché appunto ci sono comunque problemi di mobilità di parcheggi eccetera e di sicurezza soprattutto però noi ci teniamo a sottolineare il fatto che è uno stadio di una squadra della Roma mentre sarebbe stato possibile secondo a nostro avviso che essendo un terreno pubblico di proprietà pubblica potesse essere invece costruito uno stadio almeno anche dell'altra squadra di calcio che è la Lazio che di cui da tempo si parla perché a sua volta ha intenzione di costruire uno stadio della squadra e quindi riteniamo che ci sia il rischio di un futuro progetto analogo per la Lazio che vuol dire altro consumo di suolo altre risorse comunque che vengono poi impiegate per costruire una struttura di cui probabilmente con la costruzione di questo stadio non ci sarebbe in bisogno. La domanda però che ci dobbiamo porre che ci poniamo sempre nel nostro lavoro di carta in regola è quale interesse pubblico soddisfa un progetto tanto più che in questo caso è l'assemblea capitolina che approverà l'interesse pubblico in base a una legge che stabilisce che appunto la cosiddetta legge sugli stadi prima erano dei commi adesso è diventata poi una legge in vigore dal primo gennaio duemilaventitré che diciamo stabilisce anche delle procedure più velocizzate più semplificate come spesso accade nel campo urbanistico per permettere diciamo di effettuare questi interventi urbanistici in tempi più rapidi e con procedure più semplici. In realtà noi ci poniamo il problema perché vogliamo che l'interesse pubblico porti dei vantaggi per tutti i cittadini e non solo diciamo per certe categorie magari quelle che si possono permettere delle dei servizi anche le partite sono a pagamento e poi come vedremo è anche oltre le destinazioni non sono solo sportive comunque pensiamo che si tratti una buona amministrazione dovrebbe trovare sempre un punto di equilibrio tra tra le esigenze diciamo appunto sportive le esigenze economiche anche perché sono sicuramente investimenti posti di lavoro ma anche un punto di equilibrio con i diritti dei residenti e con la tutela dell'ambiente perché riteniamo che ci sia un'emergenza climatica importantissima di cui in realtà si parla molto ma poi sul piano concreto si fa abbastanza poco e come vedremo a nostro avviso questo forse l'aspetto più critico del progetto proprio rispetto al verde e all'ambiente bisogna quindi che si trovi un equilibrio tra l'interesse pubblico di una struttura sportiva i posti di lavoro e l'indotto e i bisogni della città e del quadrante sotto l'aspetto anche della sostenibilità ambientale ed ecologica ed è importante che Roma incominci anche un po' a rovesciare i punti di vista perché noi vorremmo un'amministrazione che prima guarda i bisogni dei territori soprattutto quelli più svantaggiati e poi guida l'iniziativa privata per sua natura diciamo legittimamente tende al profitto invece nella direzione di un servizio per tutta la città invece spesso avviene il contrario cioè che l'agenda dell'amministrazione lavori per dare delle risposte alle sollecitazioni degli interventi privati e molto spesso le esigenze dei cittadini passano in secondo piano vengono adattate e compresse in funzione delle operazioni private e appunto l'ecologia non deve restare uno slogan e deve essere diciamo perseguita in ogni intervento che viene fatto nella città soprattutto quando ha degli impatti molto forti sui territori. Il nostro obiettivo con questo webinar in generale e come abbiamo detto individuare delle criticità bisogna dire che oltre agli uffici stessi molte che abbiamo sollevato un mese fa col dossier che abbiamo presentato sono state riprese nelle dibattito che c'è stato in molte commissioni capitoline lo stesso assessore Veloce ha fatto anche delle affermazioni nella di certe su certi aspetti che vanno un po' anche nella direzione che noi chiedevamo però è molto importante come tutto questo inciderà poi nel testo definitivo della delibera perché voglio ricordare che questa è la delibera che fissa le condizioni per l'interesse pubblico se non verranno rispettate decadrà l'interesse pubblico e quindi potrà decadere anche il progetto ma è evidente che se non sono diciamo poste in modo molto circostanziato e stringente e soprattutto non vengono posti alcuni temi come quelli di cui parleremo sicuramente anche nel seguito sarà ben difficile riuscire a condizionare il progetto definitivo e il lavoro del proponente a dei vincoli che non sono stati introdotti e votati dall'assemblea capitolina. Ultimo punto poi cominciamo a parlare del progetto è importantissimo per noi la consultazione la partecipazione dei cittadini sappiamo che prevista nonostante il proponente avesse chiesto che fosse diciamo evitata perché c'era anche la possibilità per il post covid delle normative prevedevano che fosse possibile bypassarla invece diciamo in questo l'amministrazione è stata ferma e ha voluto diciamo sostenere la consultazione pubblica però appunto deve essere una consultazione pubblica che porta delle conseguenze che possono incidere sul progetto e quindi una consultazione reale perché troppo spesso invece diventa una consultazione formale che poi si risolve in piccole modifiche che non cambiano certi aspetti che invece sono molto importanti e sostanziali. Prima di fare questo breve epilogo del progetto e poi entrare nel vivo delle criticità voglio ricordare che questo dossier è stato elaborato dal gruppo di lavoro dell'urbanistica di Carta in Regola eh è stato curato da me eh da Maria Ioannilli, da Cristina Lattanzi, da Paola Locke, da Giancarlo Storto, Rita Paris, Taglia Passarelli, Maurizio Russo e Vezio De Lucia. Alcuni di loro interverranno eh diciamo nel webinar per raccontare i vari aspetti che sono stati oggetto delle nostre analisi. io quindi condivido lo schermo e comincio a raccontare il progetto perché diamo per scontato che non tutti possono aver avuto modo di leggere. bene allora la premessa sono quelle che ho praticamente già detto qua si vede comunque una da un punto di vista aereo in cui si vede esattamente l'area come oggi eh dove verrà eh fatta dal la vista da sud comunque si si può già vedere l'area che attualmente è ancora molto verde nonostante ci siano varie previsioni come vedremo. Allora eh diciamo che intanto lo stadio come dice lo stesso proponente nella studio di fattibilità nella relazione non è solo uno stadio. Viene definito un nuovo sicuro e vibrante eh pezzo di città accessibile a tutti i cittadini a tutti i visitatori tutti i giorni dell'anno 24 ore al giorno. Questo comunque è uno degli elementi da tenere ben presenti specialmente quando poi si parla della mobilità. Allora eh diciamo quindi facciamo una breve premessa sulla distribuzione l'essenzione dei vari elementi che compongono il progetto e sul tipo di attività eh che vengono svolte. Allora intanto il progetto è stato presentato il 3 ottobre dello scorso anno dalla eh dalla ehm società sportiva della Roma eh e praticamente hanno eh individuato appunto insieme al comune con lo stadio eh nella località di Pietralata nel quarto municipio eh il luogo dove poteva essere realizzato. In realtà in quell'area era stato previsto fin dal millenovecentosessantadue la realizzazione del sistema direzionale orientale eh famoso anche come SDO e eh in seguito è stato poi introdotto il piano particolareggiato di Pietralata che prevede già la realizzazione di mh numerose edificazioni eh alcune sono già assegnate eh in particolare per l'università e l'Istat e ci sono aree disponibili che però avevano comunque già previsioni di edificazioni di direzionale terziario cioè uffici insieme però a verde pubblico e eh spazi pubblici ed è su questo tema poi che vedremo come è stato trasformato perché lo studio di fattibilità eh che dello stadio prevede una revisione sostanziale delle previsioni del di questo piano particolareggiato nell'illustrazione si vede a sinistra come è il piano particolareggiato tuttora vigente a destra come sarebbe con eh la variante urbanistica che deve essere approvata come è possibile il passaggio da uno all'altro eh lo dice almeno secondo il proponente nella relazione tecnica dice che è compatibile eh lo stadio con le con le previsioni del del piano particolareggiato eh perché eppure essendo un'opera privata di uso pubblico si è dichiarata di pubblica utilità indifferibilità e urgenza come appunto sono questi famosi commi della legge eh che sugli stadi che era già stata erano già stati utilizzati anche per il precedente progetto Tordivalle adesso sono superati da un'analoga però normativa e quindi eh diciamo eh lo stadio può essere compreso fra i servizi pubblici di livello urbano attrezzature sportive per il tempo libero eh previsto dalle norme tecniche di attuazione del piano regolatore vigente eh per descrivere velocemente il progetto prendiamo la descrizione del verbale conclusivo della conferenza dei servizi preliminare che si è eh conclusa qualche mese fa in cui con esito favorevole ma con alcune condizioni e prescrizioni approfondimenti e dunque sono tre livelli le infrastrutture dello stadio che però comprendono molte altre cose eh tra cui questi eh meeting eh incentivi che sarebbero viaggi premio eventi organizzati da associazioni e società fiere esposizioni più eh aree ricettive cioè alberghi eccetera benessere intrattenimento e reparcheggio poi c'è uno spazi esterni che sono suddivisi in un parco centrale che comprende come vedremo playground e aree sportive eh e poi parco dello stadio che qua dice caratterizzato da aree verdi e vedremo come in che modo è caratterizzato da aree verdi in più ci sono delle opere di urbanizzazione eh che sono a supporto del del di tutto il progetto il compendio per eh diciamo migliorare gli accessi e in questo caso comunque lo stadio ha una capienza di cinquantacinque mila posti per i tifosi che poi come vedremo possono essere aumentati ancora di settemila posti arrivando a sessantaduemila ci sono vari stalli all'interno per eh motorini biciclette soprattutto auto poi nei post negli spazi interi nello stadio nei vari a vari livelli ci sono come ehm queste altre eh diciamo eh destinazioni che ho prima elencato e poi ci sono naturalmente un museo della Roma un fan store ehm ristorazione eccetera dice che ci saranno anche spazi dedicati al divertimento alla salute e alla cura della persona il centro fitness e persino un asilo eh e un centro sport eh le come da un punto di vista delle superfici c'è un'area del parco dello stadio che che comprende oltre allo stadio vero e proprio un'area di servizio recintata che comprende l'area di massima sicurezza che come vedremo un'area particolare cioè dove ci bisogna rispondere delle precise prescrizioni anche del CONI poi c'è un'area del parco centrale che è un'area pubblica e qua dice comprensiva di area entertainment a disposizione della comunità e poi ci sono anche delle aree più distaccate che sono un multipiano un parcheggio multipiano fuori terra in via seguenza un'altra zona verde di mitigazione prevista per l'ospedale Pertini soprattutto dal punto di vista del rumore e poi c'è ancora una sistemazione della piazza della fermata metro quintigliani che avrebbe sotto un parcheggio multipiano interrato e tre collegamenti pedonali o ciclopedonali con la stazione Tiburtina con via Livorno e con il parcheggio che in realtà erano in parte già previsti nel piano in un piano della stazione Tiburtina. Per quanto riguarda le edificazioni edificazioni resta fuori una volumetria eh che poi è abbastanza consistente ma che comunque resta a disposizione di Roma capitale quindi non farebbe parte del compedio dello stadio che in qualche modo raggruppa alcune edificazioni che prima erano previste nel piano particolareggiato. Allora praticamente da quanto emerge quindi da questo studio della difattibilità ehm come abbiamo visto può arrivare fino a sessanta duemila sono eh diciamo vari eh eventi che caratterizzeranno tutti i giorni della settimana e non solo serali e festivi e il dipartimento eh attuazione e pianificazione urbanistica il PAU eh commenta dicendo che l'assunto che l'impianto sportivi funzioni solo nei giorni delle partite di calcio o di altri fenomeni cose sportive eh eventi sportivi eh sembra essere discordante nelle varie descrizioni rispetto all'integrazione dell'infrastruttura stadio di funzioni eh quali appunto quelle che abbiamo nominato che si presume funzionino anche nelle restanti parti della giornata e nei restanti giorni dell'anno eh e quindi diciamo che il problema è che adesso vedremo con Maria Ioannilli nella rispetto al discorso della mobilità è che eh tutte queste eh queste destinazioni queste funzioni eh descrivono comunque eh un forte polo di attrazione non solo durante le partite ma tutti i giorni della settimana oltretutto considerando che anche già nelle partite stesse la gente non si muove negli orari delle partite ma anche parecchie ore prima eh e quindi eh non allora interrompi condivisione e quindi diciamo ci troviamo di fronte a a uno scenario eh ben più impattante delle sole partite di calcio come uno potrebbe immaginare ecco io passo la parola a Maria Ioannilli eh per eh il discorso sulla mobilità diciamo che è naturalmente nelle cose pensare che essendo vicino alla stazione Tiburtina avendo una metropolitana che passa accanto eh sia una soluzione ideale che non crea problemi invece dei problemi li crea e li hanno evidenziati gli stessi uffici prego Maria. Sì buonasera a tutti buon pomeriggio eh io farò un intervento breve però insomma spero di riuscire a mettere in evidenza quelle che sono le criticità che abbiamo eh osservato finora eh il tema della mobilità chiaramente è un tema eh abbastanza centrale no? Per valutare questa proposta perché perché noi conosciamo quel quadrante tutti noi conosciamo quel quadrante sappiamo che è un quadrante già molto carico dal punto di vista dei flussi di spostamento e quindi è chiaro che tutta la materia che riguarda la mobilità e su come questa mobilità viene assicurata in qualche modo eh risulta dirimente per poter valutare la proposta e anche come diceva giustamente Anna prima la per poter determinare quelli che sono gli obblighi da mettere a carico dei proponenti di questa proposta. Vi dico immediatamente che sul tema della mobilità sono stati fatti molti rilievi sia da Roma Servizi per la mobilità che dal PAU il primo dei quali riguarda proprio i valori di riferimento di domanda che i proponenti hanno messo alla base delle loro eh analisi dei loro studi perché in tutto il dimensionamento allo stato attuale del flussi di mobilità eh che devono essere serviti in qualche modo eh questo valore di riferimento è a cinquantacinquemila eh persone quando in realtà come più volte viene detto nella relazione eh lo stadio potrebbe assicurare una capacità di sessantaduemila posti e proprio perché lo stadio viene fatto in quel luogo che è un luogo critico dal punto di vista della mobilità è evidente che non si può pensare che il dimensionamento dell'offerta di mobilità sia su un valore di riferimento che non è il massimo di domanda potenziale attesa la seconda criticità è la modalità con la quale i proponenti hanno eh determinato le modalità con cui questa domanda di spostamento dovrebbe essere verificata e anche questo effettivamente eh come dire è stato osservato dai diversi enti a partire da una mobilità ma di nuovo anche dal PAU comunque nella ripartizione che viene proposta nello studio di fattibilità le cose sono come le vedete rappresentate in questa tabella e cioè più o meno il trenta per cento al trentuno per cento di spostamenti dovrebbe avvenire in auto il trentatré per cento dovrebbe avvenire con trasporto pubblico eh in particolare metropolitano quindi servizio di metropolitana pullman e treni comunque coprono delle quantità non irrilevanti perché complessivamente arriviamo a un quindici per cento attenzione questa percentuale tenete la memoria perché come vedremo ci sono delle criticità sulla possibilità di assicurare questi servizi quindi stiamo parlando di trasporto fuoriterra su gomma eh per quanto riguarda i pullman e poi anche i treni per quanto riguarda per esempio gli spostamenti mh extra comune. Ora come vi dicevo questo che la prima parte della tabella rappresenta la distribuzione modale facendo base a cinquantacinque mila persone mobilitate dalla presenza dello stadio però questi valori intanto vanno ricomputati ed è molto importante che questa cosa venga fatta con il valore massimo di riferimento e cioè sessantaduemila spostamenti attesi massimi perché non si può derogare da questo punto di vista e quindi questo porta tra l'altro a questa cifra a queste due cifre che sono state messe in evidenza e sono state messe in evidenza perché sulle spostamenti in auto e quindi sul tema per esempio dei parcheggi e anche diciamo della distribuzione dei flussi di traffico nell'area e sul eh lo spostamento in metro ci sono le criticità maggiori che adesso proviamo sinteticamente a rappresentare eh come si è arrivati a determinare questa distribuzione modale della domanda non non è proprio chiarissimo tant'è che eh in diverse osservazioni per esempio anche da da parte di ATAC diverse osservazioni alla proposta preliminare si chiede si come dire esorta a mh in qualche modo documentare le ipotesi che sono state messe alla base di questo eh ripartizione modale sia dal punto di vista della domanda complessiva di trasporto pubblico viramento che rispetto alla ripartizione che è stata che è oggetto di proposta praticamente il settanta per cento ora se togliamo questo uno per cento dei tazzi e il poco di spostamento a piedi ma diciamo che il il sessanta per cento di spostamento è ipotizzato sul trasporto pubblico quindi la prima questione che si pone come avete fatto a stimare che il sessanta per cento della domanda va sul trasporto pubblico quale modello è stato usato e poi diteci anche come avete in qualche modo stimato per esempio le fasce orari di spostamento perché quelle non sono eh come dire non è questa una variabile indipendente una variabile di poco conto eh per poter valutare eh diciamo la 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 bontà delle ipotesi eh che sono state fatte tra l'altro queste ipotesi sembrano non tener conto di una questione che secondo noi invece è abbastanza critica dal punto di vista del rendere credibile quelle ipotesi ora come tutti sapete perché lo sappiamo quando c'è qualsiasi di manifestazione a fine manifestazione normalmente gli accessi ai servizi di metropolitana prossimi vengono interdetti quindi quando c'è il concertone a San Giovanni non si va via da San Giovanni con la metro San Giovanni e neanche con alcune metro limitrofe e anche in questo caso e questo è presente anche nella relazione presentata dai proponenti la metro di Quintiliani che è quella che principalmente dovrebbe servire l'afflusso allo stadio che è la metro più vicina rispetto alla localizzazione dello stadio la metro di Quintiliani è chiusa viene interdetta questo significa che in uscita le diciamo i ventimila che sono stati caricati sulle metropolitane dovrebbero secondo eh diciamo le ipotesi posta alla base dello studio dovrebbero spostarsi secondo questo schema come vedete per andare verso la fermata metro B1 di Bologna verso la fermata di stazione Tiburtina verso la fermata di Monti Tiburtini ora io lascio alla valutazione di di chi ascolta ma vi rappresento che la situazione reale delle distanze fra la stazione di Quintiliani e le stazioni di Mitrofe è quella che vedete qui e tra l'altro attenzione perché queste distanze 873 metri per accedere alla stazione di Tiburtina sono distanze lineari in linea d'aria quindi in realtà lo diciamo lo spostamento effettivo che deve essere condotto dalla eh uscendo dallo stadio per andare verso stazione Tiburtina o Bologna che è distante un chilometro e mezzo o i 727 metri di Monti Tiburtini sono evidentemente delle distanze importanti e ci si chiede ci si chiede se per caso soprattutto valutando per l'appunto la modalità con cui un tifoso che accede allo stadio col trasporto pubblico poi se ne possa allontanare se ha scelto di andarci in metro se questa situazione non possa condizionare le ipotesi che sono state fatte dai proponenti e cioè che ci sia un così massiccio utilizzo del servizio pubblico e in particolare del servizio metropolitano se invece come si può temere però applicare un principio di precauzioni in questo contesto che non va neanche descritto lo vedete rappresentato qui sapete qual è il livello di congestione di questo comparto urbano se invece non sia per l'appunto necessario utilizzare questo principio di precauzione tra l'altro c'è un'altra questione che pure va presa in considerazione perché l'ipotesi che il diciamo il deflusso del dei tifosi dallo stadio avvenga principalmente ricorrendo all'uso della metro B anche questa è una questione che pone delle criticità e anche questo è stato osservato effettivamente per esempio dal Dipartimento Mobilità del Comune perché nella relazione eh di accompagnamento alla proposta si dice che eh insomma la metro B può ha una capacità di servizio percorsa di mille e duecento persone eh il Dipartimento Mobilità del Comune dice no attenzione perché in realtà la capacità di servizio della linea B è di mille persone eh a corsa e tra l'altro bisogna tener conto che la linea B è una linea eh come dire abbastanza malmessa in generale diciamo un po' becchiotta un po' eh è affetta da diversi problemi e quindi ci dice il Dipartimento di ehm Mobilità del Comune che su quella eh linea sulla linea B possono per insomma c'è una percorrenza di sette corse ora il che vuol dire che prendendo in considerazione quattordici corse nei due versi di spostamento vorrebbe dire che dal momento in cui i tifosi si trovino in stazione occorrerebbero una punto cinque ore per come dire mh farli defluire tutti ora questo tempo va riflettuto perché di nuovo i tifosi sono disponibili ad accettare un tempo così eh diluito per potersi allontanare dallo stadio diciamo di sì ma attenzione perché c'è da fare i conti col fatto che il fine servizio della metro BB uno nei giorni ad esclusione di venerdì e sabato termina alle ventitré trenta ora se c'è una partita alle ventuno con un termine alle ventitré con i tempi di eh uscita dallo stadio e i tempi di raggiungimento delle stazioni metropolitane beh voi potete immaginare che forse si potrebbe correre il rischio di non riuscire diciamo così a usufruire del servizio metropolitano per allontanarsi dallo stadio e questa questione tra l'altro degli orari eh rende critica pure l'ipotesi che è stata fatta per esempio sull'utilizzo del servizio di pullman quindi sia sul i mezzi pubblici urbani che eventualmente sui pullman del trasporto regionale che ha un tempo diciamo di fine servizio che spesso coincide con eh diciamo con la fine delle partite e quindi come capite tutta quanta questa questione della mobilità disegnata in questo modo con una incertezza abbastanza osservata da tutti sulle modalità con le quali si è in qualche modo pensato di servire la domanda eh certo richiede che nella delibera che verrà fatta domani credo che comunque si arriverà a una delibera di dichiarazione dell'interesse pubblico delle accortezze debbano essere poste e fra tutte io credo che la l'accortezza più importante riguarda proprio la necessità che comunque ci sarebbe per rendere realistica l'ipotesi di spostamento col trasporto pubblico in particolare col trasporto metropolitano di quella quota così importante di eh di tifosi che bisogna intervenire per potenziare il trasporto metropolitano e qui la domanda che si pone come al solito è ma chi lo paga questo potenziamento attenzione perché il trasporto metropolitano potrebbe essere eh migliorato però ci sono dei costi che vanno sostenuti che riguardano il miglioramento proprio dell'infrastruttura di servizio ora questa questione di eh capire a chi imputare questi costi è assolutamente rilevante e questo dovrebbe comparire evidentemente nella delibera che il il consiglio eh dovrebbe assumere domani quindi la la faccenda eh che a noi sembra di poter dire le richieste che noi abbiamo avanzato come carte regole che speriamo che vengano recepite nella delibera che verrà adottata domani e da un lato va bene sono richieste che riguardano eh come dire l'esigenza che vengano prodotti degli studi credibili sul eh i dati di carico di domanda di mobilità e sulle ripartizioni modali e mh credibili voglio dire non in astratto credibili dal punto di vista del dei modelli che vengono utilizzati dei dati che sono stati che saranno adottati eh per l'implementazione di questi modelli ma la cosa che effettivamente sembrerebbe essere molto più rilevante è che nella delibera dovrebbe essere chiarito chi è quali sono gli interventi di adeguamento e di potenziamento del trasporto pubblico che renderebbero in qualche modo credibile questo servizio della domanda eh mediante per l'appunto del trasporto pubblico e soprattutto che questi interventi le cui caratteristiche cui costi evidentemente sono da determinarsi però abbiano dei costi che siano interamente messi a carico del proponente senza che Roma capitale come dire offra né compartecipazioni né compensazioni di di questi costi visto che eh per l'appunto quello che viene deliberato domani è l'interesse pubblico a questo intervento e e poi ci sono comunque anche degli altri interventi che dovrebbero essere garantiti per eh supportare la domanda di mobilità dello stadio perché adesso ci siamo concentrati in particolare sul tema del trasporto pubblico perché è particolarmente rilevante particolarmente rilevante perché il diciamo interferisce eh direttamente sul i flussi diciamo ordinari di mobilità di quel di quel quadrante ma chiaramente anche il tema della mobilità con auto è rilevante quindi ci sono degli interventi che necessariamente eh dovrebbero essere garantiti per migliorare la mobilità su eh gomma su con auto privata per l'accesso allo stadio e anche questi dovrebbero essere interventi in qualche modo eh come dire compartecipati dal proponente di di questo intervento del dello stadio perché interventi di come quelli per l'appunto che qui vedete elencati eh assumono delle caratteristiche assolutamente peculiari proprio in relazione al fatto che in quella posizione c'è un attrattore di mobilità così importante come lo stadio e quindi diciamo questi interventi devono poter essere compartecipati dal punto di vista economico anche da parte del eh proponente lo stadio bene io mi fermerei qui perché non voglio togliere spazio agli altri interventi comunque per qualsiasi domanda ci fosse in materia siamo siamo qui ecco bene abbiamo concluso il la condivisione e diciamo ecco che gli ultimi interventi eh che abbiamo chiesto sulla raddoppio della Tiburtina e certamente non possono devono essere comunque affrontati da Roma Capitale perché a prescindere dallo stadio sono interventi anche la prolungamento del tram della tramvia eh da via le togliati eccetera sono interventi da da tempo promesse i cittadini che sarebbe ora che fossero anche attuati io adesso passo la parola a ehm a taglia passarelli che ci parlerà dei parcheggi che anche questi presentano dei problemi analoghi mi preparo a ehm un attimo sì che devo trovare la il il scusate ma mi ero preparata tutto naturalmente però è che non posso mentre c'è la compa eh lo schermo allora non mi sembra di aver capito bene oddio qua c'è anche quello allora un secondo che cerco la presentazione dei parcheggi eccola grazie Anna buonasera a tutte e eh eccoci grazie 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 mille eh dunque eh abbiamo approfondito come gruppo di lavoro eh anche le problematiche sollevate dagli uffici eh nella documentazione finale allegata al verbale della conferenza dei servizi il tema sosta parcheggi che eh evidentemente è strettamente correlato al tema mobilità ehm come aveva anticipato Maria Ioannilli il promotore ha ehm ha previsto che circa il sessanta per cento dei fruitori dello stadio eh utilizzeranno il servizio pubblico va da se quindi che una gran parte ehm dei dei frequentatori eh si si ha stimato appunto il promotore il trentadue per cento raggiungerebbe lo stadio in macchina eh su una previsione di cinquantacinque mila persone quindi sempre meno delle 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 settantamila che possono essere ospitate e mh raggiungerebbe quindi lo stadio eh in auto circa cinquemila ottocentosessanta vetture con una media di tre persone a bordo. Cerchiamo di ricordare questa cifra che poi approfondiremo. Eh il il parere del dipartamento del dipartimento di programmazione attuazione urbanistica eh che abbiamo esaminato è stato molto critico sulla dotazione di parcheggi previsti eh sia in zona stadio che non eh nella relazione eh presentata appunto dal proponente e chiede espressamente che eh che nel progetto eh tale tale previsioni siano verificate siano verificate nuovamente ricalcolate e integrate. Vado alla prossima diapositiva. Questo perché? Perché ehm le problematiche che sono state evidenziate riguardano da una parte da un lato il conteggio che è stato fatto dal proponente relativamente alle aree sosta, agli aree parcheggi eh standard cioè la quota eh minima prevista dalla normativa vigente rispetto al a questo impianto sportivo a questo nuovo stadio e oltre a quelli che erano previsti inizialmente dal piano particolareggiato. Dall'altra invece eh la problematica riguarda dove possano essere reperiti i parcheggi mancanti che non sono individuabili nel nello spazio vicino allo stadio come vedremo subito dopo. Quindi queste sono le principali criticità evidenziate dalla dagli uffici. Uffici ripeto dipartimento PAU ehm Roma Servizi Mobilità e eh Roma Mobilità. Allora sulla prima problematica eh il proponente dai documentazioni dalla documentazione che abbiamo eh fa presente che in base alla normativa sugli stati quindi al decreto ministeriale quattornici quaranta quattro del sessantotto la la quota di standard sugli standard scusami sugli standard sarebbe eccedente e dall'altro eh chiede espressamente la possibilità di ridurre eh la dotazione di parcheggi pubblici facendo dei calcoli che poi potete vedere nella documentazione pubblicata sul sito però tutte queste entrambe queste ipotesi eh non trovano il parere favorevole del PAU che le appunto che le che le non le considera valide. ehm eh vi vi facciamo vedere brevemente dalla dalla prossima da questa diapositiva per questo all'inizio vi ho chiesto di memorizzare il numero delle autovetture previste eh in arrivo eh per gli eventi la relazione sul traffico e sulla mobilità presentata dal proponente come potete notare eh in questa relazione eh il proponente conteggia nel totale dei parcheggi a disposizione eh ben eh 5.900 posti eh auto nei parcheggi pubblici dei nodi di interscambio che sono quelli dell'Atac e della linea metro B e ci sono varie stazioni che vengono considerate le aveva citato prima anche la dall'ingegnere Ionigli, Rebibbia, Ponte Mamolo, Santa Maria del Soccorso, Annibagliano, Iono, addirittura Magliano e Laurentina. Ehm mentre i posti ad uso esclusivo area stadio che sarebbero eh dopo le integrazioni ricasse dagli uffici quattro mila circa ehm sono ehm diciamo eh alcune proprio vicino allo stadio circa mille i parcheggi interrati altre però nelle immediate vicinanze ma non nell'area stadio come vedremo poi eh nella prossima diapositiva. Quindi nel totale come potete vedere il totale dei parcheggi previsti dal proponente è novemila novecentottanta novemila novecentosettantanove quindi un sembrerebbe un numero elevatissimo di posti auto. Ora il dipartimento eh e Roma Servizi Mobilità hanno messo in evidenza però che ai fini del conteggio generale quindi dei parcheggi delle delle aree sosta il proponente inserisce sia i parcheggi del piano di assetto della stazione di Burtina sia i posti auto all'interno no? Dei nodi di scambio che ho nominato prima e in corrispondenza di alcune stazioni della metropolitana e per raggiungere la cifra eh di di posti auto necessari per rispettare questi standard e il pau eh siamo alla la la diapositiva successiva cosa osserva? Osserva che ben settecento quasi ottocento posti pubblici previsti dal piano di assetto della stazione di Burtina non possono essere utilizzati e quindi non sono da reperire ehm non sono da da considerare nel nella sommatoria generale perché a quello sono destinati e non ad altre funzioni come gli altri come ben duemila duecento posti auto che in base al progetto del 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 proponente eh verrebbero reperiti nei vicini parcheggi di scambio della della metro B Ponte Mammolo e Redividia in particolare quindi non considera il dipartimento eh computabili nel totale dei parcheggi asservibili al progetto stadio quelli citati perché i parcheggi pubblici destinati sto leggendo proprio il parere ehm che è stato pubblicato eh perché i parcheggi pubblici destinati alla funzione di scambio inter intermodale non concorrono alla dotazione di standard e aggiunge si rileva conseguentemente una grave criticità legata alla mancanza di aree sosta sufficienti in zona stadio quasi tremila in meno rispetto ai quattromila ipotizzati questo soprattutto se si considera la capienza iniziale che anche qui ehm nello studio preliminare modale è sempre di cinquantacinquemila spettatori rispetto ai sessantaduemila invece ehm eh di capienza totale del dell'impianto il dipartimento mobilità eh ha anche espresso un parere e criticità sulla sulla progetto e eh rileva che mh nel progetto appunto si prevede che tremila seicento auto troveranno posto nei parcheggi riservati agli eventi stadio quindi nella zona stadio e duemila ottocento nei parcheggi di scambio ma questa ipotesi sovrastima la capacità dei suddetti parcheggi perché la reale capienza sarebbe eh eh rileva dipartimento mobilità di circa duemila seicento posti e ma questi posti eh non potranno essere comunque ehm asservibili agli eventi dello stadio perché sono appunto ehm posti auto in prossimità delle stazioni della metropolitana e quindi verranno utilizzati anche dai cittadini che si regano al lavoro per altre esigenze quindi c'è una sovrastima da parte del proponente ehm come per la per il problema della mobilità anche per il problema dei parcheggi tutti gli uffici hanno hanno espresso ehm una forte criticità sul fatto che eh il proponente abbia fatto tutti i propri conteggi considerando la capienza di soli cinquantacinquemila spettatori per quanto alla all'aspetto della della sosta il tema è ancora più 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 rilevante perché se eh immaginiamo che eh dovranno raggiungere lo stadio non non cinquantacinquemila spettatori ma sessantaduemila non si capisce non si riesce a immaginare gli ulteriori settemila spettatori dove e come si recheranno allo stadio viste le problematiche già illustrate da da Maria Ioannilli in termini di spostamenti con i mezzi pubblici e considerando che come rileva lo stesso proponente nella zona stadio non è assolutamente individuabile altra altra superficie da destinare ai parcheggi per oggettivi limiti di spazio e di funzionalità di aria questo scrivono quindi ehm in conclusione nella nella proposta di deliberazione dell'aggiunta no che eh viene portata che viene discussa domani eh in assemblea si chiede che ehm si dichiara diciamo che ricorrono gli estremi per la dichiarazione di pubblico interesse come ha specificato eh Anna Maria Bianchi all'inizio ma mh che beh si devono si dovranno appunto garantire e si dovrà garantire rispetto di alcune prescrizioni e condizioni tra queste è previsto il progetto deve garantire la dotazione di parcheggi pertinenziali dei parcheggi pubblici e dei parcheggi privati e pubblici previsti dalle varie leggi e regolamenti per quanto al sistema della sosta eh il dimensionamento della stessa deve essere adeguatamente indagato in ordine ai potenziali e conseguenti effetti critici sulle aree limitrofe sui nodi di scambio valutando anche l'eventuale riperimento e implementazione di parcheggi aggiuntivi presso i nodi di scambio delle fermate della metropolitana della linea B cosa chiediamo come associazione carte in regola eh cosa abbiamo già chiesto eh e speriamo che appunto eh l'assemblea consideri le nostre osservazioni e e domande che l'implementazione di parcheggi aggiuntivi in corrispondenza dei nodi di scambio non rimanga un'eventualità e che quindi debba poi essere risolta a eh a spese dell'ente pubblico quindi del nostro caso del comune di Roma ma che sia inserita nella delibera come una condizione vincolante e che e i relativi costi siano a carico del proponente proprio perché è necessario che un ampio numero di utenti dello stadio utilizzino anche solo per la parte finale dello spostamento il trasporto pubblico questo incremento non deve avvenire a scapito degli altri utenti romani delle delle ovviamente delle del trasporto pubblico e soprattutto considerando che lo stadio e tutti i suoi addentellati saranno aperti tutti i giorni della settimana cosa che non viene abbastanza presa in considerazione con orari estesi attività private a pagamento che attireranno inevitabilmente migliaia di utenti e clienti mentre i parcheggi intermodali citati sono strutture che sono state realizzate con soldi pubblici come servizio pubblico per tutti i cittadini che si spostano per varie esigenze lavoro attività quotidiane eccetera mi fermo qua grazie grazie taglia e adesso entriamo nel nel merito un attimo ecco che eh di uno dei temi che appunto come dicevamo ci sta particolarmente a cuore che il tema eh del verde pubblico io prendo un attimo la presentazione vediamo se è questo sì l'ho fatta allora condivido lo schermo cercherò di andare veloce più velocemente possibile anche perché effettivamente poi si può anche trovare tutto questo materiale sul nostro sito naturalmente se ci fossero degli errori o delle precisazioni eccetera siamo a disposizione per per farle allora ehm ecco allora la prima cosa che c'è da dire è che eh un aspetto fondamentale come la dotazione di verde pubblico nella proposta di delibera ma anche come vedremo nei pareri rilasciati dagli enti preposti eh nella conferenza dei servizi preliminari è molto sottovalutato per usare un eufemismo nel senso che la parola verde non appare proprio neanche nella nella proposta di deliberazione che eh verrà approvata cioè verrà portata in assemblea eh allora intanto vogliamo ricordare che il verde pubblico non è solo un di più una decorazione uno spazio dove fare sport è diventato una necessità eh a tutti i livelli per la salute dei dei cittadini per l'inquinamento atmosferico per il calore che sempre più con l'emergenza climatica si abbatte soprattutto su quartieri come quello di Pietralata che è parecchio cementificato allora eh intanto eh nel piano particolareggiato di Pietralata quello che adesso dovrebbe essere modificato dalla variante il il comune aveva eh operato un esproprio dei terreni per il fine di pubblica utilità e aveva inserito in mezzo a tutte queste eh o accanto anzi a tutte le edificazioni che erano previste abbiamo visto già in parte anche realizzate era previsto un ampio parco urbano in un quadrante che appunto è povero di verde anche se dall'alto si possono vedere molte zone verdi ma molte di queste eh sono già oggetto di piani e di edificazioni che sono in corso. Allora eh scusate ma ecco eh viene chiamato dal proponente un vero e proprio polmone verde per l'intera città di Roma in stretta connessione al sistema del trasporto pubblico a vocazione pedonale ciclabile dice eh nonostante il frequente richiamo al verde però appunto di verde nello studio di mh di fattibilità ce n'è ben poco anche proprio per la mancanza di descrizioni dettagliate che consentono di capire come il progetto di due che vengono definite a due grandi aree verdi noi lo mettiamo tra virgolette perché come vedrete sono poco decisamente poco verdi nonostante il colore del delle mappe e sono divise in due un parco dello stadio che centodiecimila metri quadri all'interno della del quale ci sarà appunto la struttura dello stadio e una zona più piccola quarantadue mila metri quadri che il parco centrale allora intanto non lo diciamo noi ma lo dice eh il PAO eh nel la conferenza dei servizi preliminare rispetto alla dotazione di verde pubblico urbano che era previsto nel piano particolareggiato di settantasette mila metri quadri c'è una quota di riduzione di ventinove mila metri quadri e ne restano cinquantaquattromila metri quadri restanti però tutto quel verde che vedete non è appunto tutto verde nel senso che eh eh praticamente eh deve essere considerata anche l'aspetto qualitativo e non solo un mero calcolo eh dei metri quadri anche come questo viene distribuito infatti se guardiamo le due aree che abbiamo visto parco dello stadio e parco centrale eh ci sono eh secondo la relazione del proponente si parla di sviluppo di aree verdi all'interno del parco dello stadio del parco centrale volte a valorizzare la flora la fauna del territorio eccetera eccetera il parco dello stadio è quello che vedete praticamente in rosa eh o poco poco di più eh però la parte rosa quella che si vede è la parte dell'area di massima sicurezza che sarà delimitata da chiusura non accessibile durante gli eventi calcistici ma qualsiasi altro evento a pagamento possiamo immaginare e saranno appunto come abbiamo detto in orari e giorni della settimana non solo durante le partite eccetera allora eh si tratta di una fascia intorno allo stadio eh stadio eh che viene chiamata area di massima eh sicurezza in cui viene il controllo degli accessi e eh dovrà essere libera da ostacoli e ingombri ma dice potrà essere sistemata come spazio verde liberamente usata nei giorni in cui non ci saranno eventi sportivi tuttavia eh per essere una fascia di risulta intorno che circonda lo stadio dove eh saranno messi eh le migliaia di di spettatori degli eventi e delle partite e oltretutto se dovrà essere libera da ostacoli e ingombri è assai difficile eh che possa esserci qualcosa di più di semplice iuole sparse qua e là eh secondo il parere del PAO comunque l'area di massima sicurezza eh potrà essere esclusa dalla superiore dalla superficie eh del comparto stadio cioè quella diciamo costruita e inclusa nel parco sportivo cioè quella che dovrebbe essere verde soltanto se venga garantita la fruibilità di detti spazi durante i giorni in cui non ci sono eventi però appunto bisogna anche capire quale tipo di verde sarà compatibile ora eh se pensate che appunto come abbiamo già detto deve essere costituita da spazi scoperti delimitati in modo da risultare liberi da ostacoli al deflusso eh a sinistra vedete i rendering dello studio di fattibilità eh se non mi non ci sembra che ci sia che sia libera da ostacoli al deflusso quest'area e anche il parco centrale però che poteva essere effettivamente un parco pubblico con il verde eh a disposizione dei cittadini anche questo in realtà è costituito da molto verde di risulta a partire dal fatto eh che in realtà è stato ideato come questo parole dello studio di fattibilità è stato ideato come spazio pedonale di espansione dello stadio destinato all'intrattenimento all'attesa degli spettatori pre e post partita e poi ci sono strutture attrezzate per il tempo libero in realtà eh sarebbe una buona parte occupata da un polo sportivo un parco giochi attrezzato e va bene per i bambini eh per un playground aperto al pubblico però ci sono in mezzo anche cinque campi da padel cinque campi da tennis eh tre campetti da basket supponiamo aperti campi da calcetto non lo sappiamo ma addirittura un nuovo anfiteatro all'aperto di tre mila cinquecento metri quadri e una nuova piazza per eventi all'aperto che praticamente ci appare un doppione di duemila metri quadri cioè praticamente viene sparpagliato in tutto eh il parco centrale eh una serie di 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 strutture che tra l'altro sono anche impermeabili o semi impermeabili che quindi come adesso vedremo l'intervento di Paola Locke ci racconta che eh in realtà eh il verde anche per essere avere delle conseguenze positive dal punto di vista ecologico deve essere invece compatto il più possibile e continuativo non ci sono comunque eh rendering ci sono solo questi di questi spazi eh liberi aperti al pubblico non ci sono quelli invece che riguardano i campi da da tennis e da eh padel eh poi ci sarà anche comunque una ulteriore ridimensionamento dello spazio quello diciamo perché è un'eredità eh della della viabilità eh pensata e costruita con soldi pubblici per il piano particolareggiato e quindi eh come si può vedere ci sono anche delle strade molto ampie delle rotonde che e dei passaggi che porteranno via anche questo spazio e continuità dello spazio verde però io adesso vi faccio sentire l'intervento della nostra Paola Locke per quanto riguarda le normative perché in realtà c'è mh nel ci sono stati negli anni anche recentemente molte iniziative convegni sulla forestazione sul contrasto ai cambiamenti climatici che però eh diciamo molto spesso quando si si arriva al al dunque che si devono approvare dei dei progetti eh vengono abbastanza accantonati allora un secondo che devo scusate ma devo trovare l'intervento di Paola Locke che non poteva essere con noi e quindi eh abbiamo registrato il suo intervento prima ecco qua gli interventi di forestazione urbana sono eh da moltissimo tempo ormai incentivati nella progettazione urbana eh questo impone eh sempre di più quindi una programmazione accurata sia della qualità che della quantità e della distribuzione degli interventi di forestazione interna delle città perché è importante la forestazione urbana? La forestazione urbana eh permette eh alcuni eh diciamo di eh di raggiungere alcuni obiettivi strategici molto importanti come la riduzione delle emissioni che causano alterazioni climatiche eh la mitigazione dell'inquinamento atmosferico e anche di quello acustico il miglioramento del della funzionalità ambientale e della connettività quindi contribuendo alla realizzazione della rete ecologica e anche il miglioramento del paesaggio urbano e per l'urbano. Tutto questo ehm si ripercuote sulla salute e sul benessere dei cittadini. È molto importante quindi che vengano realizzate nel tempo sia eh nelle nella ehm progettazione urbana eh sia diciamo nuova sia in quella eh esistente eh una eh messa a dimora di specie arborea arbostiva e finalizzata proprio agli interventi di forestazione e anche eh va incentivato anche l'implementazione del patrimonio verde urbano anche nei parchi, nei giardini e nelle aree aperte. E questo però eh puntando soprattutto a massimizzare l'efficacia diciamo della risposta ecologica delle piante utilizzate. Molte volte anche eh diciamo rispondendo eh più alla all'aspetto diciamo quindi prettamente ecologico che non ai criteri diciamo estetici che un tempo erano ritenuti prioritari. Per i progetti di forestazione eh devono essere fatte diciamo eh frontate delle scelte progettuali eh diverse in rapporto al sito in particolare attenzione alla scelta delle specie e alla loro distribuzione spaziale. Eh molto importante la scelta delle specie perché più facilmente le specie eh eh hanno capacità eh di adattarsi al fitoclima eh della nostra città più eh ci abbiamo possibilità che eh i nuovi impianti eh possano ehm possano diciamo avere successo con minore rischio di fallanze. Ora eh nella relazione tecnica eh del proponente eh progetto dello stadio si parla lungamente di forestazione urbana che dovrebbe essere applicata nei cosiddetti parco dello stadio e parco centrale. Però eh dall'esame della documentazione che abbiamo fatto eh non appare evidente quale tipo di progettazione si intende predisporre per assolvere a queste finalità. Tra l'altro eh nell'accesso agli atti abbiamo visto che nei pareri e prescrizioni eh pervenuti nell'ambito della conferenza dei servizi eh non compare eh neanche nelle raccomandazioni da parte degli enti al concenno alla forestazione urbana né alla sistemazione del verde urbano. Eppure ci sono una serie di eh normative e linee di indirizzo che ehm che spingono in tal senso come dicevamo prima. Eh innanzitutto bisogna ricordare che nel marzo del duemila e ventuno Roma Capitale ha partecipato eh nell'ambito del decreto clima indetto dal Ministero dell'Ambiente ad un bando di gara per la forestazione della città metropolitane eh con tre progetti eh in particolare per Pietralata proprio del municipio quarto per l'area di Pietralata. Eh inoltre eh dobbiamo ricordare sempre fra le linee di indirizzo eh che eh il PRG di del Comune di Roma prevede interventi di forestazione che dovrebbero perseguire quindi i famosi obiettivi strategici quelli che già abbiamo in qualche modo elencato prima che sono la riduzione delle emissioni che causano appunto l'alterazione del clima eh e quindi eh contribuiscono a in qualche modo contribuendo in qualche modo al miglioramento quindi del microclima locale la mitigazione dell'inquinamento atmosferico quindi delle polveri sospese e la mitigazione anche dell'inquinamento acustico il miglioramento della cognitività quindi eh contribuendo alla realizzazione della rete ecologica attraverso quindi attraverso quindi interventi forestali in aree selezionate come per anche determinare anche un incremento della biodiversità della biodiversità locale e eh il miglioramento in generale del paesaggio urbano tra le altre normative linee di indirizzo in termine di forestazione urbano o di incremento di di verde pubblico che vanno ricordate ci sono la determinazione della regione Lazio del diciassette novembre duemila e ventuno e successiva integrazione eh del ventuno gennaio del duemila e ventidue in cui mh attraverso cui è stata emanata sono state emanate le linee guida alla scelta delle specie arboree arbustive da utilizzare negli interventi di forestazione urbana e periurbana nel territorio della regione Lazio e quindi di conseguenza anche di Roma capitale. Altra eh altre linee guida da ricordare sono quelle per la gestione del verde urbano e prime indicazioni per la per una pianificazione sostenibile eh queste del venticinque maggio del duemila e diciassette del ministero dell'ambiente in cui si raccomanda che l'organizzazione spaziale di tutte le nuove realizzazioni a verde debba eh perseguire il massimo accorpamento delle aree quindi evitando la frammentazione oppure la collocazione in aree residuali eh facendo in modo eh facendo in modo tale che eh ci sia quindi un'adeguata funzionalità ecologica di queste aree verdi perché la sommatoria di tante piccole aree verdi dal punto di vista ecologico non corrisponde ad un'unica grande grande area verde eh quindi che eh che assolve eh sicuramente ad un'altra funzione. Una legge che va oltretutto ricordata eh questa diciamo non recentissima del duemila e diciassette a legge regionale ehm disposizioni per la rigenerazione urbana e recupero edilizio in cui all'articolo uno comma uno lettera G si promuove lo sviluppo del verde urbano e l'adozione di superfici permeabili a copertura verde pensile. Questo tutto per favorire la reggimentazione e il recupero delle acque piovane. Poi importantissima eh la legge dieci del duemila e tredici norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbano verdi urbani in cui si promuove sia l'incremento degli spazi verdi urbani e quindi con la realizzazione di centure verdi anche eh per delimitare tutti gli spazi urbani sia per le nuove edificazioni sia eh anche per le edificazioni diciamo ehm passate. Poi eh un'altra cosa importante eh favorisce cioè si eh si promuove anche eh la la trasformazione dei elastici solari in giardini pensili e poi un altro anche un'altra un'altra indicazione molto importante la realizzazione di grandi aree verdi nell'ambito della pianificazione urbanistica con particolare intervento a quelle aree che hanno una maggiore densità edilizia. Quindi come vediamo insomma ci sono una serie di indicazioni sia a livello normativo che di linee di indirizzo che eh che raccomandano comunque ehm dispongono che all'interno delle città vengano realizzate queste e questi interventi di forestazione urbana o comunque questo incremento del verde all'interno di aree eh che devono essere definite e che comunque eh devono eh corrispondere a delle superfici eh che permettano una distribuzione del verde sia dal punto di vista eh quantitativo che dal punto di vista anche qualitativo ehm molto accurata e importante. bene questo era l'intervento di eh Paola Locke e eh però io vorrei ritornare alla mia slide si vedono eh qui avevamo predisposto eh le citazioni normative che appunto di cui ha parlato anche Paola ah voglio correggere che lei ha detto eh i pareri della conferenza dei servizi vissi sull'accesso agli atti in realtà eh il comune li ha pubblicati su un sul sito istituzionale del dipartimento urbanistica si trovano tutti i i gli elaborati sia del del proponente sia tutti i pareri rilasciati dalla conferenza dei servizi e qua ci sono appunto la legge sette e la legge dieci del duemila tredici ci sono queste linee guida dell'ISPRA e regolamento del verde pubblico e privato del paesaggio urbano in cui si si parla appunto di favorire la forestazione urbana e periurbana ma soprattutto io vorrei eh parlare di questo progetto mettiamo radici eh verso un'ecologia urbana per Roma capitale di qualche anno fa penso fosse la giunta Raggi eh che nel marzo duemilaventuno ha anche partecipato al bando di gara per il decreto clima e tra eh i progetti con cui ha concorso c'erano tre progetti per la realizzazione di boschi urbani in zone diciamo periferiche che erano serpentale, torra spattata e pietralata eh che appunto erano progetti per la sindaca Raggi per migliorare la qualità dell'aria e la salute dei cittadini ma anche questa giunta nel giugno duemilaventitré in eh Campidoglio si è tenuta questa prima conferenza per il piano di adattamento climatico di Roma per fare il punto sui cambiamenti climatici raccontare le azioni già in corso il percorso della capitale verso il piano di eh adattamento che fisserà priorità di intervento e risorse e anche qua lo prendo dal sito istituzionale si è parlato di forestazione in ambito decreto clima di Casal Brunori Torre Spaccata e Pietralata cioè quindi diciamo che sicuramente da parte delle istituzioni di Roma capitale si parla di Pietralata come un luogo che ha bisogno di verde e di forestazione urbana eh e qui vediamo la narrazione dello studio di fattibilità che parla di polo ecologico ricostruire la continuità ecologica in realtà la rete ecologica viene dimezzata credo potrei non essere precisa perché su questo non ho preparato una slide comunque viene fortemente ridimensionata e si parla di parchi pubblici si parla di delle pratiche eh mh NBS che sono poi eh le pratiche eh che sono azioni ispirate supportate o copiate dalla natura strategie azioni interventi questo è della relazione tecnica e si parla di forestazione urbana che troverebbe ambito di applicazione nel parco dello stadio e nel parco centrale eh anche nel nel parere del PAO si parla di di forestazione urbana sia per il parco dello stadio sia per l'area verde di mitigazione cioè che sarebbe quella vicino all'ospedale Pertini eh però nei pareri prescrizioni e raccomandazioni degli enti aziende e gestori pubblici servizi allegati alla proposta di liberazione non abbiamo trovato nessun accenno alla forestazione urbana né alla sistemazione del verde urbano ci sono molti rendering nel piano di fattibilità con i vari ambienti dei due parchi ci sono anche delle specie elencate effettivamente e eh si prescrive però cita solo il piano regolatore per dire eh che si dove si prescrive che dove prescrive la piantumazione di almeno venti alberi e quaranta arbusti per ettaro ecco e qui eh diciamo si prevede la messa a dimora di alberature di nuovo impianto particolarmente evocate per l'assorbimento degli inquinanti gassosi eh però appunto non c'è nessuna indicazione specifica neanche sui costi anzi nel piano economico finanziario eh dove sono in realtà dei valori ancora preliminari soggetti a modifiche comunque nel rispetto al progetto definitivo però la voce a re verdi è inserita insieme a tutte le opere pubbliche che comporteranno un costo complessivo di sedici e rotti milioni di euro comunque eh qua eh come abbiamo visto c'è un problema di frammentazione del verde che ha implicato anche l'impossibilità di accedere ai fondi del PNRR eh per progetti di forestazione eh in quanto non ci sono superficie unitarie nel progetto eh c'è un problema questo forse l'aveva preparato Maria non mi ricordo allora arriviamo al parere del dipartimento ambientale che appunto ha partecipato alla conferenza dei servizi però non ha detto nulla sulla quantità e la qualità del verde urbana del dello studio di fattibilità ma solo inserito mh tutta una serie di eh prescrizioni e di più che altro raccomandazioni dovrebbe potremmo dire perché hanno praticamente copiato eh da eh tutta una serie di eh soprattutto dal regolamento del verde pubblico e privato del paesaggio di Roma capitale eh hanno citato e copiato degli articoli dei commi eccetera illustrando i criteri da rispettare per la progettazione del verde pubblico in particolare soprattutto per i parcheggi interrati e fuori terra senza dare alcuna valutazione delle proposte contenute nel piano di fattibilità né chiedere approfondimenti prima del rilascio del parere praticamente hanno ripetuto quello che c'è già scritto si può leggere nelle eh normative vigenti e addirittura eh a certo punto è scritto così come noi riportiamo nella slide obiettivo del presente parere è quello di elaborare riflessioni formulare proposte potenzialmente utile ad una visione più organica e una lettura più integrata del tema del parcheggio cioè praticamente dopo tutti questi discorsi sull'area verde pubbliche sul verde urbano e sulla riduzione e il punto centrale del del parere del dipartimento ambiente è il parcheggio eh è davvero poco se pensiamo che appunto entrambi i parchi presentano aree frammentate con molte superfici impermeabilizzate una scarsa definizione del numero di alberature qui abbiamo un altro punto che è proprio quello che viene eh che riguarda le le impianti sportivi che dovrebbero essere pubblici nell'area del parco centrale eh che in realtà eh non è neanche chiaro perché probabilmente saranno affidati a Roma capitale e se saranno impianti a pagamento gratuiti noi possiamo pensare che eh saranno comunque in buona parte a pagamenti a pagamento anche se magari con delle riduzioni del canone per i cittadini meno ambienti eh che comunque eh sono sono strutture che saranno poi usate per il tennis il padel eccetera da si immagina eh concessionari che gestiranno queste aree e mh ci sono appunto eh nella conferenza dei servizi è stato specificato che eh fanno parte della integrante della proposta di delibera i pareri delle varie dei vari enti e uffici che si sono espressi e il che il proponente dovrà rispettare nella stesura del progetto definitivo insieme alle ulteriori condizioni che dovessero emergere come necessarie sede di conferenza dei servizi decisoria tuttavia siccome eh non c'è nessuna citazione di prescrizioni come abbiamo visto che riguardino il verde eh se non quelle generiche delle normative ci sembra molto difficile che questa situazione possa cambiare quindi eh noi chiediamo queste sono scusate le nostre richieste eh che sono chiediamo che nelle condizioni della proposta di deliberazione che conferisce l'interesse pubblico siano inseriti questi punti che il verde pubblico deve avere la stessa ampiezza prevista del piano particolareggiato con una superficie compatta e continua non ritagliata ai bordi dello stadio ricavata da una sommatoria di spazi frammentati e con una qualità assicurata dalla messa dimora di un congruo numero di alberature di prima e seconda grandezza se come abbiamo visto sarà impossibile ricavare nel compendio un'unica e continua superficie eh dovrebbe essere quantomeno individuata un'altra area nel quadrante interessato per permettere il raggiungimento della della quota sottolineiamo con i costi e le sistemazioni a carico del proponente voglio qui aggiungere che nella abbiamo avuto un'audizione eh alla commissione ambiente su questo tema e questa presentazione l'abbiamo più o meno illustrata e c'è stato ci sono stati due interventi di consiglieri che ci sono sembrati interessanti in particolare eh l'intervento del consigliere Caudo di Roma Futura che ha parlato di una sua richiesta di una dotazione di standard compresi quelli del verde che fosse eh calcolato su tutte le aree del piano particolareggiato e che quindi eh fossero diciamo eh riconsiderati appunto gli standard del piano particolareggiato invece il consigliere Bonesso di Bonessio di Europa Verde ha fatto una proposta che ci sembra molto interessante che quella che visto che comunque l'area verde avrebbe dei limiti oggettivi non potrebbe essere stesa oltre un certo limite si reperiscano eh la superficie che è stata sottratta al piano particolareggiato che avrebbe dovuto essere destinata a verde servizi pubblici venga individuata in aree ancora libere sempre nel quadrante eh di pietralata nel nel della Tiburtina per realizzare o del verde o eh lui diceva degli impianti sportivi togliendoli da quella da quella area che dovrebbe essere invece eh oggetto eh di verde. Allora noi vorremmo che poi fosse eh interesse fosse eh esplicitato queste strutture sportive chi le gestirà e a quali condizioni saranno eh diciamo fruite dalla cittadinanza ma soprattutto vorremmo che fossero anche i cittadini del quartiere a dire la la loro opinione nel senso che troviamo assolutamente incredibile che si sia deciso sulla carta eh che sia una società sportiva che costruisce uno stadio di questo genere a decidere eh come mh impostare l'area pubblica che era prevista come parco verde e quindi chiediamo che assolutamente venga consultata la cittadinanza a nostro avviso avrebbe dovuto essere prima delle delle dello studio di fattibilità una piccola nota eh andiamo in chiusura su eh il rischio archeologico e eh sullo schema di convenzione dell'ANAC che ehm praticamente eh nello studio di fattibilità eh è stato scritto che l'eventualità di interferenze archeologiche tali da compromettere la fattibilità dell'opera a uno scenario poco probabile e addirittura ha detto hanno valutato un rischio archeologico minimo o a rischio archeologico moderato in realtà non sono d'accordo col proponente la soprintendenza speciale archeologica belle arti e paesaggio di Roma c'è quella nazionale ma neanche quella capitolina la soprintendenza ha detto nel suo eh o un parere che che poi non è come vedremo un parere eh una eh che deve essere considerata a rischio archeologico medio alto perché dice che ci sono eh che eh nella zona sono stati eseguiti vari scavi che sembrano indicare eh la presenza di aree compromesse eccetera ma lo stesso ha detto la soprintendenza eh capitolina ah qua ho cambiato e comunque entrambe non si si sono riservate di esprimere il parere solo dopo che ci saranno stati approfondimenti anche solo preliminari di studio che non hanno ritenuto sufficienti quelli consegnati dal proponente. Però un'altra cosa che vorremmo sottolineare è che c'è questo eh questo schema di convenzione eh che è stata eh è stato messo a punto dall'ANAC eh che si chiama partenariato pubblico privato una proposta per il rilancio guida le pubbliche amministrazioni per la redazione di un contratto di concessione per la progettazione e costruzione e gestione di opere pubbliche e partenariato pubblico privato. Allora queste linee guida eh sono state eh in parte eh diciamo modificate nella proposta che è una bozza non è la convenzione è una proposta del proponente eh in cui ha in quanto ha messo eh tra gli eventi previsti e imprevedibili come guerre, esplosioni nucleari, disastri, catastrofi naturali anche la ritrovamenti di reperti storici, archeologici e monumentali e quando eh la il PAU ha eh diciamo eh contestato o questa questo eh questa interpretazione questa modifica che è stata fatta allo schema di convenzione dell'ANAC eh la risposta del della società sportiva della Roma è stata lo schema ANAC contiene ANAC contiene suggerimenti redazionali che non vincolano le parti. Noi quindi invece chiediamo che siccome stiamo parlando di un'opera pubblica perché è un'opera pubblica su suolo pubblico ma soprattutto destinata a diventare dopo novant'anni nella a ritornare nella proprietà di Roma capitale anche tutta la struttura riteniamo che invece Roma capitale debba inserire nella delibera l'obbligo per il concessionario di attenersi scrupolosamente a questo schema eh dell'ANAC e appunto magari anche abbandonare l'idea del rischio archeologico in una zona del genere come un rischio di catastrofe nucleare eh io eh ho concluso quindi ringrazierei tutti quelli che mi hanno preceduto e e vorrei passare la parola invece a Giancarlo Storso il nostro nuovo vice dire vice presidente vice direttore un po' troppo vice presidente eh che farà diciamo una un bilancio di tutto quanto abbiamo detto e augurandoci che sia stato utile sia per chi ci ha ascoltato per saperne di più sul progetto naturalmente dal nostro punto di vista e soprattutto a chi domani dovrà decidere eh un interesse pubblico di una struttura che è veramente importante eh che sia eh ben ponderata prego Giancarlo sì grazie velocemente faccio qualche considerazione conclusiva eh mi pare che chi mi ha preceduto ha messo bene in evidenza le criticità sugli argomenti che sono quelli più importanti riguardo la realizzazione dello stadio cioè il il problema della mobilità dell'accessibilità delle dei parcheggi e del verde e da ultimo poi c'è questo problema archeologico non di poco conto ma vogliamo credere che certamente eh il comune di Roma avvierà una campagna esplorativa eh fatta fatta bene fatta come deve essere fatta eh una sola osservazione che eh se qualora venissero computati come parcheggi anche quelli eh legati alle altre fermate della della metropolitana soprattutto della linea B eh allora c'è da pensare che il carico umano delle lì della linea della metropolitana eh deve essere ancora e ancora più eh diciamo più più robusto più forte perché alla alle persone che vengono per una metropolitana eh si deve aggiungere poi anche coloro che la metropolitana eh la usano eh soltanto come come spostamento dal parcheggio al allo stadio ma quello che volevo appunto l'integrazione di quanto è stato detto che che mi pare assolutamente sostivo e circostanziato il frutto di un lavoro condotto con molta attenzione con molto scrupolo volevo fare alcune considerazioni invece di metodo su come ha lavorato Carti in regola perché a me sembra importante evidenziarlo e e renderlo noto per quelli che ci seguono e eh allora la prima considerazione noi abbiamo assunto che ci sia necessitare un nuovo stadio cioè non abbiamo rifiutato eh l'idea no? E questa è stata il primo il primo la prima decisione anche se eh legata a questo eh una preoccupazione che io ripeto in ogni circostanza è quella di capire che fine farà lo stadio lo stadio olimpico si tratta di una di una struttura importante eh qualitativamente eh certamente eh rilevante dal punto di vista architettonico e l'esempio dello stadio Flaminio preoccupa non poco che appunto possa essere oggetto di degrado. Comunque il primo fatto il primo il primo dato eh su cui noi abbiamo che abbiamo assunto è quello di accettare la necessità di un nuovo stadio. Si è accettata anche la localizzazione eh anche qui ehm la questione poteva essere oggetto di 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 altre di altre considerazioni ma certamente non mi non ci è sembrato utile entrare in una in una in una polemica su una situazione migliore di un'altra. Abbiamo deciso che eh seguivamo l'amministrazione nella scelta dell'area di Pietralata anche se occorre dire si sancisce il definitiva eh definitiva ehm chiusura con quella che è stata eh una previsione assolutamente rilevante del piano del sessantaduco e quello di dotare di dotare di aree di aree pubbliche legate al direzionale la città di Roma. Non ci sia riuscito fino adesso con con lo stadio si mette una pietra tombale a quella che appunto è stata l'intuizione all'evole di piccinato, di lugli, di valori e che hanno dato dato forma e sostanza al piano regolatore del sessantadue. L'altra questione che a me sembra importante sottolineare e quanto anche Anna Maria diceva in introduzione cioè l'interesse pubblico deve essere deve essere ritrovato ricercando un non facile equilibrio tra esigenze diverse e in alcune case contrapposte. Questa questa è il senso dell'operazione ricercare un equilibrio cioè non attraverso preconcetti, attraverso posizioni ideologiche ma tenendo presente quali sono gli interessi reali e questi interessi devono risultare compatibili. Allora certamente lo stadio ha delle sue esigenze ma i cittadini hanno le altre esigenze. La città eh nel suo complesso e il quadrante di pederata in particolare ha delle esigenze che devono essere considerate e tenute nel 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 conto opportuno. È una questione che va anch'essa evidenziata in maniera in maniera forte e che il piano particolareggiato eh che oggi è vigente che viene frantumato rifatto dalla dalla presenza dalle 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 localizzazione del nuovo stadio va ripensato nel suo complesso e va ripensato in maniera in maniera intelligente non non mettendo mettendo toppe e eh in questo eh l'aspetto più evidente è il verde. Il verde va riprogettato nel suo insieme non può essere qualcosa che viene nei ritagli e per 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 diciamo addentrati in aurea in aree che non ostacolano lo 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 stadio e e attraverso una una un computo eh solo matematico si dà atto che comunque qualche rispetto quantomeno al verde di quartiere ci sia un soddisfacimento. Il verde va riprogettato all'interno di un piano particolareggiato che deve essere che ha bisogno di una revisione totale e c'è bisogno proprio di un'idea complessiva che eh riguardi quest'area e quest'area come eh diciamo viene ad integrarsi viene a relazionarsi con l'intorno. A me sembra che questo sia questione da evidenziare. Da ultimo riprendo quello che diceva Anna Maria sempre nell'introduzione che a me sembra importante cioè eh ed è questo che ha dato il motivo di fare diciamo anche accelerando i tempi di preparazione eh il webinar di oggi cioè il fatto che eh quello che accadrà nei prossimi giorni in consiglio comunale eh a partire da domani è un passo decisivo cioè è un passo che è uno step che è essenziale per il buon esito del dell'operazione da parte di chi abita dei cittadini degli abitanti di Roma in generale e quindi in quella sede si dovranno eh inserire tutte quelle prescrizioni che si ritengono assolutamente indispensabili uscendo da da un lato dal generico come eh giustamente è stato evidenziato per il verde che 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 praticamente è qualcosa che ha che 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 ha eh diciamo elementi prescrittivi quasi nulli ma che revisione tutti gli aspetti e faccia sì che l'interesse pubblico non sia eh così di carattere un generico una sorta di di eh di 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 postulato che va dimostrato come come il rischio eh che accada no c'è interesse pubblico motiviamo perché c'è interesse pubblico l'interesse pubblico deve essere conseguenza di una serie di ragionamenti di una serie di 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 dati che devono tornare ed una serie di valutazioni che tengono conto della 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 situazione e la complessità certo ancora una volta noi siamo realisti perché intervenire nella città costruita è eh come si è deciso rifare perché eh potrebbero essere anche altre alternative comunque assumendo come noi abbiamo fatto il dato che si vuole intervenire la città costruita questa ha una complessità che non può prevedere diciamo scorciatoie questo mi pare che il messaggio che come in carta in regola vogliamo mandare grazie Giancarlo allora eh noi chiudiamo vi ricordiamo che sul nostro sito carta in regola punto it eh c'è il dossier che abbiamo fatto eh già da un mese adesso caricheremo anche questo video e naturalmente restiamo in attesa del di quello che sarà poi il testo definitivo approvato domani in assemblea ricordo che anche l'assemblea capitolina si può seguire andando sul sito di Roma Capitale scendendo fino ad assemblea capitolina c'è il link alla piattaforma che manda le le assemblee capitolina in diretta ma possono anche essere poi viste in differita e sicuramente può essere un'occasione importante per molti cittadini che magari non hanno mai seguito un dibattito in aula capitolina mh seguirlo invece su un tema così importante in cui speriamo che anche diciamo eh in modo costruttivo però che comunque ci sia una dialettica proprio su questi temi che noi abbiamo sollevato. Allora io ringrazio tutti e ringrazio Giancarlo Storto, ringrazio Maurizio Russo che non è intervenuto ma che è uno degli autori del nostro dossier, ringrazio Maria Ioannilli, ringrazio Taglia Passarelli e tutti gli altri del nostro della nostra associazione che lavorano con noi. Grazie a tutti.